E' stato scelto tramite apposita commissione il logo per il settantesimo anniversario dell'Avis di Fano. Primo premio e logo ufficiale è andato a Davide Servadio della quarta B di grafica pubblicitaria dell'Istituto Federico Senica. Secondo premio a Nicole Guiducci della terza C della grafica pubblicitaria dello stesso istituto ed il terzo a Matteo Brunetti, Gianluca Tinti, Michael Sabattinelli, Luca Bassotti, Giorgio Schiavoni del liceo artistico Adolfo Polloni. Con questo concorso, con questo contest lanciato alle scuole grafica pubblicità via Seneca e liceo artistico Polloni abbiamo voluto evidenziare la creatività, la originalità, la vivacità intellettiva dei giovani e i giovani hanno riconosciuto che in fondo l'Avis riesce a dialogare con loro e soprattutto riesce a mettere in luce le loro energie e direi soprattutto il dialogo che da tantissimi anni stiamo conducendo con le scuole sta dando veramente dei grandi risultati. Questa partecipazione di loghi per l'Avis è stata qualitativamente e quantitativamente molto alta circa 100 prodotti è stato difficile anche individuare il vincitore comunque il giovane Davide Servadio che ha ottenuto il primo premio credo che abbia saputo ben inquadrare una realtà caratteristica artisticamente e in maniera architettonica bella della città, l'arco d'Augusto avvolto in una goccia di sangue come segno di grande solidarietà che attraversa il tempo e attraversa le generazioni. La Commissione inoltre ha anche attribuito quattro menzioni speciali a Leonardo Catalani, Andrea Martelli, Matilde Parisi e Luca Finn. Questo bellissimo progetto realizzato da un giovanissimo studente avrà anche l'annullo filatelico perché Avis Fano quest'anno compie 70 anni e il 15 di marzo sarà una festa importantissima per noi proprio perché i 70 anni di Avis non possono altro che essere pieni di gioia. Tanti saranno gli eventi che Avis Fano farà durante tutto questo 2020 per il nostro appunto settantesimo e il 23 di febbraio Avis Fano con tanto orgoglio ospiterà il Carnevale nazionale quindi siamo stati estratti o meglio siamo giudicati questo bellissimo evento di festa del Carnevale nazionale dopo Viareggio quest'anno tocca a Fano e a Avis Fano accogliere 250 volontari donatori da tutta Italia per festeggiare insieme dopo il 23 di febbraio e il 15 di marzo festeggeremo il nostro settantesimo e il 25 di marzo la Memo ospiterà tutti i 100 progetti realizzati da questi studenti e quindi saranno in mostra questi bellissimi elaborati dando sicuramente una visibilità maggiore ai primi tre classificati quindi crediamo tantissimo nei giovani si sono avvicinati in molti ad Avis in questi ultimi anni ma non basta perché la sufficienza ematica la risposta al bisogno delle sacche di sangue è talmente ampio e infatti i nostri donatori sono leggermente in diminuzione quindi aspettiamo con tanta gioia tantissimi giovani perché per rispondere con tanto impegno alla gratuità donazione del dono richiede uno sforzo non soltanto emotivo da parte dei giovani ma anche il numero di donazioni quindi giovani grazie ancora venite anche a donare